241 e 54 totale delle penalità nei tre giri di gara sono 16 per Federico Lici andiamo avanti quindi con il prossimo binomio e parliamo di Lorenzo Cipriani Lorenzo parte con 12 penalità in sella Umbrie un bel metto ottenuto nella seconda manche per Lorenzo e la sua Umbrie e la sua Umbrie un bel metto ottenuto nella seconda manche per Lorenzo e la sua Umbrie e la sua Umbrie il risultato finale per la chiusura da parte di Lorenzo e Cipriani che arriva a questo punto ad un totale di 16 penalità vediamo quindi il totale dei tre giri